Ti piace il pallone? Allora sai che fa papà? Ti spiega i mondiali in catarro. Allora, quando ti devi mangiare le verdure, tu che fai? Piangi, fai capricci, non le voglio, lo fai per il principio. Allora papà che fa? Dice allora, se fai bravo e te le mangi, papà prende i soldi e ti compra il pallone. E tu subito, te le mangi, ci passi sopra al principio. Così quando dobbiamo andare a tagliare i capelli, non c'ho voglia, ti metti a piangere, mi annoio, lo fai per il principio. Allora papà che ti dice? Dai, se fai bravo e te le tagli, papà prende i soldi e ti compra FIFA, il videogioco, no? E tu subito, per il pallone, ci passi sopra al principio, anche lì. Eh sì. In catarro papà, non rispettano i diritti umani, fanno cose bruttissime e noi ci schieriamo contro quelle cose, perché abbiamo dei principi. Sì. Ma allora hanno i soldi papà, e coi soldi si sono comprati i mondiali e noi per il pallone facciamo come te, ci passiamo sopra i principi. Insomma papà, quando ci sono i soldi, siamo proprio dei pallonari, ma gran pallonari. Eh, ridi, ridi, un giorno capirai.